leggerò dal romanzo di raffaele nigro il cuoco dell'imperatore pubblicato dalla nave di teseo nel 2021 un capitolo a pagina 653 guerra totale al principio dell'estate del 39 da padova ricordo che spostammo la corte a verona allo scopo di organizzare da lì l'assalto a milano partimmo con una fila spaventosa di muli cavalli carri macchine da guerra tutta la corte di cui vi ho raccontato già troppo volte si muoveva con registi vecchi e nuovi col carico dei documenti con il tesoro dell'imperatore e parte della sua libreria era un sacrificio continuo perché non si pigliava pace ma anche federico non ne trovava e non aveva molto tempo da dedicare a se stesso quell'anni rivieni frenetico era un tormento molte volte eravamo costretti a cavalcare per giorni interi e quando si smontava sentivo le gambe anch'ilosate le ossa e il fondo schiena spaccati iniziò una guerra sorda di lettere dispaci avvisi a mezzo mondo con i quali il papa e l'imperatore si verivano l'un l'altro continuamente come due lanti in una sfida all'ultimo sangue per esempio il papa aveva allertato chiese e conventi che divulgassero la sua ira e screditassero l'imperatore aveva eletto generale dei francescani padre elia da cortona e sicuro di lui lo aveva inviato a noi con precisi ordini padre elia ebbe un incontro con federico nel quale presentò le richieste del papa le sue lagnanze i suoi propositi l'imperatore si mostrò disponibile su tutto spiegò la sua posizione circa la presa di gerusalemme lo stupore che aveva creato l'improvvisa scomunica senza che nessuno avesse mosso becco contro la chiesa e i suoi dettati insomma padre elia finì col farsi il retire dalla ragionevolezza di federico e dopo pochi giorni lasciò intendere che non si sarebbe dispiaciuto di far parte della nostra corte e fungere da consigliere dell'imperatore inviò un suo abate a roma a spiegare le ragioni di federico e a chiedere misericordia il papa montò su tutte le furie che razza di legato era quello che invece di convincere si lasciava convincere si strappò le vesti e depose immediatamente padre elia da generale dell'ordine a verona restamo per quattro cinque mesi e uno di quei giorni mentre servivo dei cosciotti di cinghiale sentì padre elia che diceva federico maestà mi depongono da generale dell'ordine ma sapete chi inviano da roma a organizzare le truppe contro milano chi dovrebbe guidarle contro di voi un prete un legato di papa gregorio un altro gregorio originario di montelongo gregorio uno e gregorio l'altro dicono che giri per strada vestito di armatura e che organizzi reparti è così che si vestiva cristo in palestina e la nuova chiesa dei poveri disse federico sentendo parlare di poveri interviene don pietro con un discorso fuori luogo che urlto francesco don pietro stava impazzendo perché osò dire che stavamo spendendo a danno del popolo un mare di danaro per mantenere l'esercito in guerra contro un paese che non meritava le nostre attenzioni un salasso quotidiano per sfamare 15 20 mila uomini non credo che il popolo accetterà supinamente ancora una colletta senza contare che siamo pieni di debiti maestà quasi 25 mila once d'oro che dobbiamo a non so quanti banchieri non è compito di un giurista occuparsi delle decisioni militari dell'impero ruggì federico poi beve e semplò più calmo e gli chiese e voi che proponete tornate a casa affrontare la pace e rafforzare il tesoro della corona non lo faremo non c'è pace senza guerra rispose lui arrabbiato sdiderò il papa in casa sua mi piglio spoleto ancona e tutta la marca ci teniamo aperto il il varco verso sud ed esigiamo denari dai suoi sottoposti pietro tacque ma io pensai che avesse ragione e coraggio federico perseguiva un progetto cieco far godere dei benefici dell'impero popoli selvaggi nei quei progetti c'era solo il piccio dell'autonomia da tutti intanto conquistarli e dargli le sue regole era diventata una fissazione quando si alzarono da tavola e finì di sparecchiare mi tratteni dietro i veti delle finestre a guardare la città sottostante poi scesi alle cucine e per caso incrociai don pietro mi chiese come stesse la piccola costanza stava bene cresceva come un porcellino a saldai una frase che non mi era consentita ma con lui me la potevo permettere don pietro voi avete coraggio ma in questo momento con l'astio che c'è tra federico e il papa non credo che vi convenga mettervi contro vedete da voi stesso come monsignor taddeo ai medici e delia se ne stanno muti e asserviti che veniviene a contrariarlo poi mi risi conto di aver fatto il passo più lungo della gabbia e mi corressi eccellenza mi scuserete ma se mi sono permesso è solo per l'affetto che porto verso la vostra persona perché vedo come gli altri mormono alle spalle e poi in faccia si trasformano in pecore silenziose lui capuzziò ma non aggiunse l'erbo quell'anno me lo ricordo come uno dei più feroci con spargimenti di sangue in entrambi i campi cadaveri su cadaveri che mi chiedevo come avessi fatto a soffrire tanto di fronte ad albino e pacione uccisi a melfi molti anni prima era questa un'altra un'altra delle differenze tra guai maro di gioventù e l'uomo della maturità i morti si assiepavano in maniera in maniera spaventosa sotto le zampe dei cavalli e io riguardavo come fossero mosche uccise dal gelo tutto il secondo semestre del 39 fu una fuga e una conquista di città roccheforti municipi una partita a scacchi con i fieri cavalieri e pedoni che sotto una cotta di ferro non avevano più nulla di umano eravamo in questa peste quando ravenna si sganciò da noi e chiese protezione a bologna e venezia muovemmo allora da reggio emilia per scatenare una guerra in grande stile in tutta la padania e pigliammo più mazzo e creva il core e poi ferrare parma mentre como ci consegnò spontaneamente le chiavi allora portammo la sedia a piacenza e presa a melignano ci decidemmo di assediare milano una guerra veramente totale per dare corpo al progetto di scombinare le carte del papa ce ne andammo a pisa e di qui a giugno prendemmo terni a luglio rieti ad agosto entramo in tivoli che ci aprì le porte spontaneamente senza spargimento di sangue per tutto il fine anno federico preparò i piani e con il nuovo anno scatenammo la guerra contro il papa invademmo alcuni territori della marca e scendemmo fino a viterbo e muovemmo contro molte altre città dell'undia esclusa perugia che è città imprendibile per la sua posizione coordinare e per le mura possenti ora bisognava attaccare roma e cacciare il papa e c'è qualche ramo per fin agosto a grotta ferrata ci conduceva una brutta vita lontani dalle famiglie a cavallo di giorno e in tenda di notte sempre col batticuore nell'affrontare nemici città eserciti anche la cucina era una cucina di sopravvivenza ma che potevo fare bisognava accontentarsi per fortuna federico aveva la forza di un eremita e di un fante senza porre indugi marciò contro roma ma non so perché a due po a due passi si fermò a che pro dopo tanto cammino stava ripetendo l'errore commesso con milano so solo che le vostre spie ci consigliarono di non entrare perché il papa aveva avviato una serie di processioni e di trudi e che il popolo si era costretto si era stretto attorno a lui e allora ripiegammo verso sud chiamando le nostre donne che soggiornavano al 90 e facendole venire in puglia con una galea che attraccò a barletta questo capitolo è terminato spero che vi sia piaciuto potete trovare tutto tutti i racconti tutti i capitoli all'interno del libro il cuoco dell'imperatore di raffaele nigra